Con Antonio Vagliengo, direttore dell'area tecnica del Volley Soverato, presentiamo questo ultimo turno di andata della regular season del girone A del campionato di A2 tra Volley Soverato e Montale. Una trasferta comunque insidiosa per il Volley Soverato, reduce però dalla bella e sofferta vittoria al tiebreak con Talmassons che sicuramente ha dato fiducia alla squadra. Confermo sicuramente che questa vittoria con Talmassons ha dato un spirito di fiducia buono per l'ultima partita del girone d'andata. Sarà la nostra quinta partita in trasferta e pur nelle difficoltà di cui noi siamo ben consci, affrontiamo la prova sicuramente con fiducia e contiamo di far punti importanti perché confermerebbero e consoliderebbero il nostro piazzamento al terzo posto in questo momento del girone. Pur guardando la classifica che vede in questo momento Montale penultima quota 8 punti sicuramente la gradatoria non deve trarre in inganno perché abbiamo visto che non ci sono partite facili in questo girone, si affronterà una neopromossa comunque una squadra combattiva che vanta comunque degli elementi all'interno del suo roster, una su tutte Tagliaghero sicuramente di grande esperienza e quindi una partita che va affrontata con la giusta concentrazione. Certamente questa è una partita dove sicuramente le squadre materasso nel girone non ce ne sono per cui anche se il divario in classifica di punti c'è però il divario tecnico in campo bisogna confermarlo e di conseguenza noi dovranno prestare la massima attenzione e concentrazione a affrontare questa prova di cui noi siamo pienamente consapevoli, staff e atleti in primis. Infine ultima domanda di carattere generale, volge al termine il girone d'andata del campionato di A2 con i due gironi A e B, da scafato di questa categoria, conoscitore di questi campionati, che idea si è fatta Antonio Valienco se stanno rispettando le aspettative di inizio stagione in entrambi i gironi oppure ci si aspettava qualcosa di diverso? No, diciamo che i gironi stanno confermando i valori ai primi tre posti del girone A e del girone B sono le squadre che sicuramente hanno qualche cosa in più a livello tecnico rispetto alle altre, però le distanze sono minimali, non c'è un divario stratosferico anche di chi sta dietro, per cui l'attenzione deve essere massima, perché chiaramente l'obiettivo è quello di centrare in primis l'obiettivo della Coppa Italia e poi chiaramente salire nel giro di playoff promozione. Giorgia Quarchioni, domenica è rientrata dopo un'assenza forzata per infortunio, è arrivata anche la vittoria pur sofferta con Talbason al tiebreak, sicuramente un momento positivo per te, il rientro in squadra coinciso con la vittoria anche per aiutare le compagnie che erano un po' in affanno nelle ultime settimane. Sì, sono rientrata dopo un'assenza forzata, non ero proprio al 100% ancora, però comunque sono stata contenta di essere rientrata e aver magari dato un aiuto, una mano alla squadra. È stata la prima volta, comunque tu dici vittoria sofferta sì, però è stata la prima volta che, cioè la prima volta, che comunque siamo andati in difficoltà e mentre altre volte magari ci siamo continuati a far prendere dalla scia negativa, tra virgolette, e invece stavolta ci siamo rimboccate le maniche nonostante i due set persi e il quinto comunque non abbiamo mollato niente, siamo andati ai vantaggi e ci siamo prese la partita, quindi brave noi. Domenica si affronta una trasferta comunque ostica, si gioca contro Montale, abbiamo visto in questo girare d'andata che non ci sono sfide facili quindi al cospetto di una classifica diversa rispetto alla vostra comunque bisognerà essere molto concentrati e reattivi su questa gara. No, assolutamente, sfide facili non esistono, Montale comunque è una bella squadra, sono sistemate molto bene in campo e ovviamente noi andiamo lì con l'idea di dare il meglio di noi stessi, insomma, ognuno pronto anche da fuori a dare una mano pronto ad entrare e dare il massimo, insomma, tutto qui. Grazie. 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 Grazie.